Per molti anni Silvio Berlusconi è stato l'uomo più ricco d'Italia e fra i 30 più ricchi del mondo. Fra il 2004 e il 2007 Forbes, che stila questa particolare classifica, stimava il suo patrimonio intorno ai 15 miliardi di dollari. Ad oggi non è mai sceso sotto la settima posizione. Ma come nasce la fortuna del Cavaliere? Che fosse una sorta di predestinato, o quantomeno che avesse fin da piccino il bernoccolo degli affari, è materia della geografia familiare. La mamma, Rosa, raccontava di un piccolo Silvio molto bravo a scuola, capace di fare i compiti anche per i compagni, facendoseli quindi pagare, salvo passarli gratuitamente a quelli meno fortunati. La famiglia Berlusconi è benestante, ma certamente non ricca. Il padre, Luigi, funzionario di banca e poi a fine carriera direttore. La madre, Rosa, dattilografa alla Pirelli, finché con la nascita del terzo figlio decide di lasciare il lavoro. Silvio Berlusconi è il primo genito, è intraprendente, fin da ragazzino fa mille lavoretti. Barista, fotografo di matrimoni e funerali, rappresentante di elettrodomestici, cantante insieme all'amico fedele con falonieri nei naito e sulle cruciere. Niente però che possa far immaginare un futuro da miliardario. Anche la vincita di due milioni delle vecchie lire come primo premio messo in palio dalla concessionaria Manzoni per la sua tesi sugli aspetti giuridici del contratto di pubblicità per inserzione nel 1954 è un indizio, ma non basta. Certo segnala un'intraprendenza e una capacità non comuni di cui Berlusconi ha sempre saputo approfittare. E così non è un caso che dopo aver lavorato per qualche anno come agente immobiliare, Berlusconi riesca tramite la banca dove lavorava il padre, la banca Rasini, a farsi finanziare un prestito di 190 milioni con il quale compra un terreno in via Alciati a Milano. Zona periferica fuori dalla tangenziale est verso il Giambellino e Cesano Boscone. È il 1961, Silvio Berlusconi ha 25 anni e fonda la sua prima società, la Cantieri Riuniti Milanesi SRL. I suoi soci sono un costruttore che gli viene presentato dalla banca Pietro Canali e un commercialista. Due anni più tardi nasce Edilnord di Brugherio e poi nel 1968 Berlusconi costruisce Milano II, sorta di città ideale alle porte di Milano, oltre il Parco Lambro, allora quasi avveneristica che cresce in contemporanea accanto proprio a quell'ospedale San Raffaele dove ha passato gli ultimi giorni. È allora che il mistero dell'origine della fortuna di Berlusconi comincia a prendere corpo, aiutato dalla registrazione delle prime due fiduciarie ticinesi a cui il giovane imprenditore fa capo e di cui non si è mai capita la natura, come del resto accade per tutte le fiduciarie svizzere. Ormai comunque siamo a metà degli anni 70. Silvio Berlusconi ha appena inaugurato una pioneristica televisione via cavo proprio per gli abitanti di Milano II, Telemilano. Capisce che quello è un business interessante e quando nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale darà il via libera alle televisioni locali, lui è già pronto per distribuire programmi alle 434 emittenti della penisola. La leggenda vuole che cassette partano ogni giorno in moto o in auto per tutte le emittenti locali che trasmettono i programmi simultaneamente come se fossero una sola televisione. Insomma è pronto per il grande salto, ma i dubbi sul suo percorso di finanziere e costruttore non mancano tra acquisizioni imprenditoriali e personali. Nel 1974 infatti Berlusconi si trasferisce con la famiglia a Villa San Martino, meglio conosciuta allora come Villa Casati Stampa. È un affare nel vero e proprio senso della parola. Una truffa invece, per chi ricorda come la vendita della villa, avvenne tramite il fiduciario dell'allora giovane contessina Casati, rimasta orfana. Il fiduciario era l'avvocato Cesare Previti, amico di Berlusconi, nonché suo futuro ministro della difesa. Villa, parco, campi da tennis, maneggio, eliporto, piscina vanno via per soli 500 milioni di lire un'inezia. Berlusconi, che si fa costruire persino un mausoleo dal famoso scultore Pietro Cascella, assume come stagliere Vittorio Mangano. L'uomo resta al suo servizio per due anni. Glielo ha portato l'ex compagno d'università, Marcello Dell'Utri. Mangano, promosso poi a Factotum, però è membro di Cosa Nostra. Subisce svariate condanne per associazione mafiosa, ma soprattutto, sempre secondo le accuse, è il trade union fra i soldi delle cosche e il riciclaggio che ne avrebbe fatto Berlusconi, che a quel punto dispone di una notevole liquidità. Anche perché, come ebbe a dire una volta Michele Sindona, mafioso a sua volta, bancarottiere e pluricondannato, Cosa Nostra a Milano si appoggiava per i propri traffici ad una banca, la Banca Rasini, proprio quella dove lavorava il padre di Silvio Berlusconi. La versione ufficiale è invece che non solo gli affari andavano bene, ma che, essendo Berlusconi, nel frattempo nominato Cavaliere del Lavoro dall'allora presidente Giovanni Leone, diventato amico di Bettino Craxi, godeva di un vasto credito bancario, in particolare presso la Banca Nazionale del Lavoro. Sono gli anni della nascita della Milano 2 SPA, dell'acquisto del 30% delle quote del Giornale, del Teatro Manzoni, fino al Grande Salto. Nel 1982 compra dall'editore Rusconi Italia 1, mentre nel 1984 da Mondadori Rete 4. Telemilano era già stata ribattezzata Canale 5. E poi il Milan nel 1986 è ancora a televisioni, ma questa volta all'estero. Le 5 in Francia, Tele 5 in Germania, Tele 5 in Spagna. L'impero del Cavaliere tuttavia non si limita alle televisioni. Nel 1988 compra la Standa, grande magazzino di alimentari e abbigliamento poi ceduto al gruppo OVS. Fonda l'agenzia Five Viaggi, entra nel mondo bancario e assicurativo con banca Mediolanum, di cui possiede un 30% circa di quote. Insomma, dovunque posi la sua mano, compare il logo del Biscione, lo stesso che campeggia sulle fusioliere della sua flotta privata di jet ed elicotteri. Berlusconi è l'uomo con il sole in tasca, come ama descrivere se stesso. Tutto sembra andare a gonfie vele finché non inciampa nella Mondadori. È il 1990. La famiglia Formenton, che della Mondadori possedeva diverse quote, sembrava decisa a voler vendere alla CIR di De Benedetti. Poi improvvisamente cambia idea e sceglie Berlusconi. Si apre allora un contenzioso lunghissimo, una storia che viene affidata alle cronache giudiziarie, dove sentenze registreranno giudici corrotti dagli avvocati del Cavaliere e risarcimenti sbagliati. Una storia infinita che si trascina fino al 2013. Ma ormai la casa editrice di Segrate è saldamente nelle mani della famiglia Berlusconi, che nel frattempo ha allargato ulteriormente i propri interessi, arrivando a inglobare nel gruppo la Medusa Film nel 1995, la casa di produzione televisiva Endemol, quella del Grande Fratello per intenderci, e poi ancora nel 2016 il polo radiofonico R101-105 Virgin Radio RMC. In mezzo a partire dal 1993 c'è la lunga avventura politica del Cavaliere. Secondo la versione ufficiale, come è noto, Berlusconi scese in campo per evitare la vittoria dei comunisti. Ma a voler credere alla versione alternativa, bisogna di nuovo seguire la traccia dei soldi, o meglio delle difficoltà finanziarie, che stava affrontando in quegli anni la Fininvest, che sommersa da debiti, contratti con le banche, si parla di un'esposizione per 3.500 miliardi, era stata, non a caso, affidata alle cure risanatrici di Franco Tatò, manager con fama di duro, uno dei pochi di cui Berlusconi diceva, scherzando, ma fino a un certo punto aveva paura. Dopo la bufera di Tangentopoli, Bettino Craxi non era più in grado di proteggere nessuno e Berlusconi gli era del resto molto vicino. Le banche minacciavano di voler rientrare dei propri capitali, mandando a gambe all'aria il ramificatissimo impero del Biscione. Da qui, sostengono alcuni storici del Cavaliere, la decisione di Berlusconi di bere l'amaro calice, come dirà nel famoso video, e quindi scendere in politica. Viva Roma, forza Roberta, forza Antonio, forza a tutti voi e a tutti noi. Auguri e un abbraccio a tutti.